Care concittadine, cari concittadini, care amiche e cari amici, sono trascorse ormai sette settimane da quel giorno di fine febbraio in cui è stata scoperta la prima casistica di coronavirus nel nostro territorio, un giorno che ha completamente cambiato la nostra vita. In questo periodo è stato fatto molto e molto è già stato detto, per questo voglio innanzitutto ringraziare chi con me oggi sta lavorando incensantemente, il personale sanitario degli ospedali e delle RSA, i residenti e i non residenti, la protezione civile, il gruppo PADUS in particolar modo e anche il dipartimento provinciale, tutte le associazioni di volontariato del paese e tutti i volontari impegnati, l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, il personale del comune e dell'unione che si è dovuto anche riorganizzare in questo tempo, il parroco e tutte le persone che mi hanno contattato e fornito disponibilità per sostenere le attività di volontariato. Permettetemi anche un ringraziamento personale alla mia famiglia che in questo periodo sopporta una frenesia che è tutt'altro che normale. Stiamo cercando di interpretare al meglio questa fase nuova per tutti, provando a stare vicino a ogni singola famiglia nel modo migliore possibile. Come ho già avuto modo di dire, potremmo dire di aver vinto la nostra battaglia solo se nessuno, al termine della pandemia, sarà rimasto indietro. Se qualcuno si attarda, lo aspetteremo, perché solo uniti e insieme possiamo vincere e traguardare un successo. Per questo, con gli strumenti che abbiamo a disposizione e con quelli che arriveranno, attiveremo ogni possibile sostegno a chi risulterà maggiormente colpito. Insieme a tanti sindaci d'Italia e all'Anci stiamo chiedendo al Governo un impegno extra di 5 miliardi di euro per i comuni e poteri speciali per i sindaci per ripartire con più velocità. Se collassano i comuni, collassa la maggior parte del sistema assistenziale territoriale e questo non può e non deve accadere. Spiace che anche in questo caso non ci sia uniformità di pensiero tra tutti i sindaci. Ma non è il momento della contrapposizione politica e delle rivendicazioni. Tutti avremo tempo nel tempo di discutere di questa cosa. Oggi è il tempo della cooperazione e del lavoro insieme. Vi invito qualche volta a pensare di mettervi nei panni di chi a tutti i livelli sta compiendo scelte difficili in questo momento e scelte che si ripercuotono su di noi in modo pesante. In questi giorni abbiamo distribuito circa il 60% delle risorse arrivate dal Governo per il decreto sull'emergenza alimentare. Tra una decina di giorni riapriremo il bando per erogare subito quanto è rimasto. Se non saranno sufficienti queste risorse le metteremo noi. Ma l'importante è che si vada in fretta. Sempre la settimana prossima consegneremo a tutte le famiglie circa 1350 mascherine un po' donate e un po' pervenute da Regione Lombardia. Ce ne sarà una per ognuno. E questo è anche un altro momento importante. Tutto questo per dire che il Comune c'è. È qui ed è al vostro fianco. E c'è anche lo Stato che vi garantisco non si sta sottraendo a un lavoro eccezionale che non si risolve con un singolo decreto o provvedimento. In questi giorni abbiamo riscoperto alcuni valori che non eravamo più abituati a considerare. Il tempo con le nostre famiglie innanzitutto. Ma soprattutto il valore della prossimità e del vicinato. Mi riferisco ai vicini di casa, persone che fino a qualche giorno fa magari neanche conoscevamo e con le quali oggi ci sosteniamo a vicenda. Penso al valore della prossimità espresso dai negozi di vicinato e dalla farmacia, che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo, così come tutti i commercianti che si sono riorganizzati per le consegne a domicilio e per trasmetterci un po' di normalità. La guerra non è ancora vinta. Abbiamo vinto forse qualche battaglia sul campo, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Per questo i provvedimenti del Governo andranno verso un'ulteriore proroga della chiusura fino almeno al 3 maggio, nelle modalità che vedremo scritte nel decreto. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta saremo quindi costretti in casa, senza poterci riunire con parenti ed amici. È sicuramente una condizione difficile per tutti, ma è necessario che rispettiamo questa prescrizione. Noi, su invito del Prefetto e del Questore, saremo in servizio e saremo intransigenti su ogni spostamento non consentito. Ce lo chiedono ancora i numerosi malati che stanno lottando per vincere la loro battaglia contro il virus, ce lo chiede la voglia di tornare quanto prima alla normalità. Il lockdown porterà via con sé due feste importanti, il 25 aprile, la liberazione, e il 1 maggio, la festa del lavoro. Due temi che la storia ci ripropone ogni anno e che non mancano di fornirci sempre importanti spunti di riflessione. Me ne soviene uno solo. Negli anni scorsi siamo stati abituati, soprattutto le generazioni più giovani, a vivere questa celebrazione nel ricordo di una storia passata. Oggi la storia la stiamo scrivendo e i protagonisti siamo tutti noi. Tra qualche decennio questo periodo sarà scritto nei libri e forse il giorno che potremo tornare ad abbracciarci sarà una nuova festa nazionale. Il mio augurio di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Viva Gerre, viva l'Italia, l'Italia che resiste.